Buonasera, eccoci ore 21 in diretta sul gruppo VIF, sui canali YouTube, sul quale vi invito a iscrivervi per agevolarvi la fruizione delle dirette e anche tramite schermo TV, da cui si vede molto bene, e sulla pagina VIF velisti. Questa sembra sempre per il tema della sicurezza in mare, sentito tra tutti i velisti e quindi importante per VIF, chiacchieriamo con il nostro Giuseppe Accardi. Buonasera a tutti quanti, ciao Gianni. Ciao Giuseppe, ben trovato su VIF, Giuseppe è presidente dell'Associazione Universo Mare, un'associazione non a fine di lucro per la promozione di attività formative nella navigazione professionale e da di porto. Come abbiamo detto, l'attenzione alla sicurezza in mare è uno degli obiettivi di VIF, poiché sentirsi più sicuri o essere coscienti di avere preso le migliori precauzioni relative alla prevenzione, ci garantisce minori emergenze e più serenità nella conduzione dell'imbarcazione. Stasera affrontiamo uno strumento che personalmente, anche perché l'ho utilizzato in più occasioni, mi ritengo indispensabile nella navigazione. Per capire, per valutare quelle che sono la classificazione delle possibili insorgenze di situazioni di pericolo, le abbiamo classificate in quattro tipi. Diciamo i danni in barca indipendenti da cause esterne, cioè rotture per scarsa manutenzione, per avarie, per incidenti fisici. Poi le collisioni con oggetti fissi, come ovviamente il fondale, BOE, imbarcazioni all'ancora, eccetera. Poi danni dovuti alle condizioni meteomarine, rotture, incidenti, uomo a mare, eccetera. E danni per collisioni con imbarcazioni in movimento o con oggetti semisommerse. Ecco, Giuseppe, per ognuna di queste situazioni noi prendiamo normalmente delle precauzioni preventive. Dobbiamo certamente prendere delle precauzioni preventive per evitare danni conseguenti a questi eventi. Partiamo quindi dai tuoi punti che hai elencato, dobbiamo fare attenzione alla manutenzione, fare controlli, revisioni e anche avere la capacità di intervenire su quelle che possono essere le più comuni avarie che possono presentarsi in un'altra navigazione. Prima di tutto le avarie al motore e essere in grado quindi di ripristillare nel funzionamento. Bisogna avere le carte nautiche, studiarle, utilizzare plotter e controllare da questi qua quelli che sono i fondali che possono essere pericolosi oppure altri segnalamenti che ci sono che sono segnati sulle carte nautiche. Dobbiamo anche essere informati su quello che è la meteo, quindi ascoltare i bollettini, ci sono degli abbonamenti con dei servizi meteomarini e questa qua è un'attività molto molto importante perché prendere il mare senza sapere quali saranno le condizioni meteo in cui andremo incontro è una cosa sicuramente non buona e non valida. Oltre a questo però ci sono anche degli altri strumenti che sono quelli che possono servire, quelli che servono per evitare i rischi di collisione e quindi ci sono il radar e c'è l'ICE. Noi dedicheremo questa serata proprio all'ICE. Poche imbarcazioni sono munite di radar o di ICE mentre invece è obbligatoria la guardia, la guardia in plancia, cioè quella dell'osservazione dell'essere umano, però è suscettibile di distrazioni o di cattive interpretazioni di quello che vediamo se non siamo particolarmente abituati a identificare quelli che sono dei segnali piuttosto che delle altre navi le loro rotte. Se i primi tre casi di possibile pericolo dipendono dalle nostre mancanze, quindi scarsezza di mototensione, scarso studio delle carte oppure non aver ascoltato quelli che sono i bollettini meteo, nell'ultimo punto invece ci viene d'aiuto la presenza o meno sulle nostre imbarcazioni di strumenti che ci permettano di individuare e avere delle informazioni importanti sulle navi che ci circondano. Per quanto il mare si è steso, questo lo avremo notato tutti quanti, molto più frequentemente di quanto si possa mai immaginare, sembra destino che due imbarcazioni in uno spazio immenso come il mare nelle nostre rotte si troveranno in rotta di collisione o comunque pericolosamente vicino. Sarà capitato a tutti di sorprenderci di hopperbacco quella imbarcazione da dove spunta fuori non me ne ero accorto. Basta una piccola distrazione per trovarsi in una situazione di pericolo oppure di rendersi conto di aver corso un possibile rischio che poteva essere anche con conseguenze abbastanza gravi. Questo è ancora più evidenziato quando c'è nebbia o scarsa visibilità, pioggia o altro. Inoltre molte situazioni di pericolo sono dovute alle prime tre cause ma spesso possono essere risolte con degli interventi di emergenza. Una situazione di collisione invece porta quasi sempre a dei danni, dei rischi molto alti insomma che quello che è l'affondamento della barca. Esatto, quindi l'obiettivo della serata è capire come ridurre i possibili rischi di collisione, purtroppo come abbiamo detto spesso tragici, con imbarcazioni in movimento. Poiché gli incidenti è meglio prevenirli, analizziamo uno strumento estremamente utile ed efficace per la navigazione e la prevenzione di questi rischi di collisione e cioè l'AIS, Automatic Identification System. Che cos'è un AIS? È un apparecchio elettronico studiato per scambiare automaticamente e costantemente le informazioni tra imbarcazioni e in prossimità in mare. Quando parliamo di prossimità parliamo dai 15 ai 50 miglia e tra imbarcazioni e anche con le stazioni di terra possiamo avere delle informazioni. Il radar è un strumento eccellente però possiamo elencare pregi e difetti. I punti di forza sono se correttamente tarato e impostato rileva qualsiasi oggetto, la costa, le navi, oggetti galleggianti, le medie segnalazioni marittime e anche galleggianti dei pescatori. Però bisogna avere una certa dimestichezza e accuratezza per poter rilevare con certezza queste informazioni. Talvolta se non è tarato bene non vediamo neanche le imbarcazioni. I punti di debolezza invece sono il costo certamente elevato e come abbiamo detto un non facile utilizzo perché richiede competenza e conoscenza dello specifico strumento. Non è che noi andiamo sulla barca che prendiamo in noleggio, c'è un radar e siamo subito in grado di poterlo fare funzionare. No, bisogna conoscere molto bene lo strumento specifico. E quindi questa sera invece ci occupiamo dell'AIS e magari il radar lo vedremo un'altra volta. Certamente. E intanto vediamo questo film. I dati di navigazione delle imbarcazioni che sono nel nostro circondante. E devi tornare indietro Gianni. Arrivo. Eccoci. Tanto diciamo che questo è un filmato che hai girato tu in maniera professionale come si può vedere e che ci racconta il funzionamento e l'utilizzo dell'AIS in maniera molto molto semplice e l'ho capito anch'io quasi alla prima volta. E' uno scatolino questo che vediamo. Certo. Questo è un apparato ricetrasmettitore in grado quindi di ricevere i dati di navigazione delle imbarcazioni che sono nel nostro circondario e in grado di trasmettere loro i nostri dati di navigazione. Questo è un apparato che ha necessità della sola alimentazione. e la vediamo qua da questo connettore. Ha già incorporato un suo GPS per cui non c'è bisogno di un'antenna esterna anche se abbiamo un connettore che ne consente il collegamento con un'antenna esterna. Questo qua è il nostro collegamento all'antenna VHF perché i segnali arrivano sulle frequenze VHF. Abbiamo qua inoltre un ulteriore connettore per un collegamento alla connessione Nemea 2000 o anche a una connessione Nemea 183. Quindi è una unità praticamente a se stante stagna che potremmo anche utilizzare in modo volante perché questa unità ha una sua uscita Wi-Fi con la quale noi la andremo a collegare ad un semplicissimo iPad. In effetti possiamo collegarla anche a un plotter di bordo che è la soluzione ovviamente più indicata. Ecco quindi qui abbiamo visto che ci sono quattro possibilità insomma dallo scatolino mi posso collegare fisicamente con un cavo a un plotter oppure in Wi-Fi e posso scegliere una o l'altra soluzione. Insomma il sistema AIS prevede il collegamento ad un'antenna VHF. Molto spesso vengono utilizzati anche degli splitter per condividere l'antenna collegata alla nostra radio VHF. Io sinceramente preferisco sempre avere abbinato l'AIS a una sua antenna dedicata magari montata sul pulpito. Questo AIS insomma visualizza la posizione delle altre imbarcazioni dotate di AIS ovviamente e sono tutte le unità commerciali anche per scherecci sono obbligate ad averlo. Possiamo interfacciarla con un plotter oppure via Wi-Fi che questo strumento di uno specifico ha disponibile e possiamo collegarlo ad un iPad o comunque sia un tablet che abbia una cartografia elettronica a bordo. Quindi siamo in grado di mostrare la nostra rotta e i nostri dati di navigazione alle altre navi. Per esempio anche la velocità della barca, il nome, la dimensione, l'identificativo MMSI che ci consente in caso di rischio di collisione di poter chiamare l'unità con cui siamo in rischio di collisione direttamente in DSC. Tra l'altro questo apparato, differentemente dal radar, è in grado di fare una elaborazione cinematica quindi di comprendere se ciascuna delle imbarcazioni, la nostra e quell'altra o le altre circostanti proseguendo senza variazione la propria rotta si avvicineranno troppo quello che viene chiamato il CPA, Closest Point of Approach. Noi possiamo impostare un valore e diciamo guarda io voglio avere un'allarme se c'è qualche imbarcazione con la quale passeremmo più vicini di 500 metri, 1000 metri, 300 metri o quello che lo posso impostare io e quindi ci dà un'allarme oltre che visualizzarcelo con la marca rossa sull'imbarcazione con cui siamo, sul target con cui siamo il rischio di avvicinarci troppo. Queste info possono essere trasmette, le info dei nostri dati di navigazione e quelle delle altre barche, vengono trasmesse via etere tramite il collegamento a una semplice antenna VHF via. Quindi se ogni imbarcazione fosse provvista di un AIS ricevente trasmittente ogni imbarcazione vedrebbe su uno schermo tutte le altre circostanti e tutte loro vedrebbero noi. Adesso vediamo, in pratica così diventa anche più semplice trasmettere quello che hai raccontato e sei andato a Fiumicino e ti sei montato un AIS volante attaccato a un'antenna anch'essa volante di un VHF e vediamo com'è l'installazione di questo strumento. Diciamo che sei andato a Fiumicino in modo tale che poi collegandoti con l'AIS potessi vedere effettivamente le imbarcazioni in mare. Ci siamo recati a Fiumicino in prossimità del mare dove abbiamo installato in modo volante una antenna VHF collegata al nostro AIS. Ecco, quindi come abbiamo visto il sistema è molto semplice si prende lo scatolino, si collega l'antenna si scarica l'alimentazione e si ha il dato poi il problema è far uscire il dato se collegarlo via cavo o collegarlo Wi-Fi. Adesso vediamo appunto nel caso in cui ci fossimo collegati in Wi-Fi cosa è successo a Fiumicino sulla spiaggia. vediamo che stiamo ricevendo tutte quante le imbarcazioni in questo caso sono dei pescherecci che sono nei dintorni clicchiamo su questo ci dà il suo MMSI e vediamo che è a una distanza di 11 miglia da noi possiamo andare a vedere ulteriori caratteristiche ci dà il tipo di AIS ci dice che ci passerà a una distanza di 4,4 come CPA la sua velocità attuale è di 4,3 nodi possiamo andare a vedere se ci sono delle altre unità in zona in effetti c'è il Covid quindi sono abbastanza poche le unità in zona abbiamo quest'altra vediamo che si chiama l'Alba è a una distanza di 8,9 miglia da noi con una rotta 2,97 vediamo anche qual è il suo identificativo di chiamata e vediamo che sta navigando a 3,8 miglia la distanza al CPA da cui ci passerebbe ma noi siamo fermi quindi a poco senso è di 3,4 miglia ecco quindi abbiamo visto che è sufficiente avere questa piccola strumentazione collegarla in wifi a un tablet e avere la possibilità di visionare tutte le barche dotate di AIS trasmettente e quindi capire la loro direzione la loro velocità se e quando mantenendo le nostre rotte queste stesse velocità ci sarà un'ipotetica collisione e quindi decidere come comportarsi se modificare la lotta se chiamare via radio tramite l'MSI l'imbarcazione che potrebbe entrare in collisione con noi eccetera quindi direi con una strumentazione relativamente semplice si potrebbero avere dei grandi vantaggi dobbiamo però distinguere tra gli AIS attivi e gli AIS passivi allora come abbiamo visto noi abbiamo utilizzato nella fattispecie il nostro AIS soltanto con la funzionalità abbiamo visto di AIS passivo quindi ricevendo le informazioni delle altre unità che sono nel circondario al contempo loro ricevevano la nostra posizione a fattispecie ovviamente ferma se fossimo stati in movimento avremmo trasmesso tutti i nostri dati di navigazione alle altre unità quindi si sarebbero allertati sostanzialmente abbiamo sia gli AIS attivi che gli AIS attivi e passivi e gli AIS attivi e passivi che gli AIS unicamente passivi l'installazione dell'uno o dell'altro sistema o meglio dell'acquisto dell'uno o dell'altro tipo di AIS dipende soprattutto da quello che è il costo costi di questi apparati che sono in rapidissima discesa e tant'è vero che un AIS attivo e passivo lo troviamo da un prezzo di 700 euro in su mentre invece un AIS soltanto passivo si aggira il costo attorno al 350 euro in più c'è da aggiungere ovviamente quello che può essere il costo dell'installazione nel caso noi non volessimo utilizzarlo come abbiamo visto nell'esempio col collimento wifi a un tablet le nostre imbarcazioni sono spesso poco visibili dalle grandi navi perché se non abbiamo un buon riflettore radar difficilmente il radar riesce a vedere un'imbarcazione sembra una cosa strana ma anche le imbarcazioni di ferro possono essere correttamente rilevate da un radar mentre invece avendo un AIS è assolutamente visibile per qualsiasi nave in plancia che ci siamo e quelli che sono i nostri dati di navigazione chiaramente ecco abbiamo già qualche domanda così le vediamo subito la prima questo anonimo perché non ha inserito nome e cognome prima della domanda come avevo scritto appena sopra i pescherecci e le navi commerciali hanno l'obbligo di avere l'AIS acceso? esattamente hanno l'obbligo poi se lo dovessero spengere è un altro discorso però in effetti quelli che possono essere i pescherecci che lo vanno a spengere sono pescherecci che sono sotto costa è buona norma per noi non andare sotto costa non navigare sotto costa specialmente di notte andiamoci alla lontana perché sotto costa ci sono anche i reti certo però loro avrebbero l'obbligo di accenderlo hanno l'obbligo di tenerlo acceso ovviamente esatto Gianni perché non vedo le domande? non vedo domande non lo so ma te le racconto e poi ci chiede invece Alfonso Arpaia se l'AIS deve essere associato alla barca con MMSI o lo posso portare su barche diverse? no assolutamente come VHF è uno strumento che dà l'identità della nave quindi è fortemente legato a quella che è la nave ovviamente anche perché sull'AIS così come sul VHF non è possibile modificare quello che è l'MMSI ovviamente ovvie ragioni di sicurezza che uno potrebbe far vedere di essere una nave mentre invece un'altra nave vado lì e mi metto dentro l'MMSI della costa Concordia e non è possibile quindi sorvoliamo sul fatto che tu eri in spiaggia con un AIS è certo ok invece Denis Pietro Poli ci chiede che è importante anche avere la strumentazione indipendente dal plotter cioè perché dice se salta il plotter navighi lo stesso in sicurezza e quindi avere strumenti di backup sarebbe meglio questo un po' come tutte le cose certo non possiamo averne 10.000 però insomma avere un backup di volta in volta è utile anche se come abbiamo visto lì col collegamento con il tablet noi possiamo anche collegarlo vedendo un po' peggio su un telefonino certo è evidente che come tutti gli strumenti di navigazione si tratta comunque di ausilia l'attenzione umana che non può essere ovviamente delegata in toto a nessun strumento elettronico fallibile per sua natura noi che siccome abbiamo uno strumento noi dobbiamo non porre quella che l'attenzione quella che viene chiamata la guardia in plancia assolutamente anche perché questo qua è un obbligo anche perché basta una piccola distrazione appisolamento in situazioni di nebbia o qualche imbarcazione di cui non riusciamo bene a interpretare la loro rotta la loro dimensione o quello che stanno facendo perché non è poi semplicissimo se non si è allenati nella navigazione a identificare quello che sono i movimenti delle altre navi oppure se siamo in solitario o con un equipaggio ridotto scarsamente attento questo è chiaramente uno strumento di ausilio ma non possiamo demandare a lui qualsiasi cosa e quindi attarci a fare un sonnellino magari quelli che sono i navigatori solidari sono abituati a fare dei piccoli sonnellini di un quarto d'ora 20 minuti però navigano sempre molto a largo e già a priori hanno informazioni su quello che può essere il traffico nei dintorni ciò non toglie abbiamo visto anche nella Vende Globe che ci sono stati dei sinistri insomma quindi la guardia in plancia visibile e attenta quella è sempre un obbligo va detto per semplici per comprare un po' la semplicità di questo strumento che anche un'antenna VHF montata sul pulpito quindi relativamente basso quindi un metro e mezzo due metri riesce a comunicare fino oltre 15 miglia con le altre unità quindi siamo ben visibili e vediamo anche 15 miglia non so un po' che poi dopo vedremo anche su delle slide quindi rispetto a una nave che viaggia a 20 nodi avremo evidenza già 45 minuti prima perché è una nave che viaggia a 20 nodi e noi abbiamo una evidenza a 15 miglia la vediamo 45 minuti prima tempo più che sufficiente per progettare una manovra evasiva o comunque per tenere d'occhio l'evolversi della situazione questo sia avendo l'occhio fisso sul display ma anche in virtù di un allarme che noi possiamo dare quello che ribadisco è importante è che l'AIS fa lui dei calcoli cinematici per cui è molto semplice riuscire a comprendere se saremo in rotta di collisione oppure se questa unità passerà a una distanza in sicurezza sì adesso prima di mostrare le videoteche del powerpoint che avevamo avevo ancora una domanda anzi un'affermazione di Francesco Marin che ci ricorda che pure le unità che fanno noleggio in quanto commerciali sono obbligati sono obbligati ad avere l'AIS no non sono obbligati lì è il noleggiatore che se vuole dare un servizio mette l'AIS al momento credo che siano relativamente poche le unità che vengono già dotate con l'AIS questo in virtù del fatto che poi dicono lo do a qualcuno che non sa come utilizzarlo cosa se ne fa però ci sono delle imbarcazioni che sono dotate di AIS poi un altro nostro anonimo oltre a farti complimenti che ti fanno sempre tutti dice che è consigliabile avere un AIS anche su piccole barche e gommoni da di porto anche sotto i 10 metri e lì direi ancora di più perché proprio essendo piccole sono ben difficilmente identificabili vero che solitamente le unità piccole sono poche quelle che fanno navigazione specialmente notturna però anzi tanto più è difficilmente visibile ad occhio nudo un'imbarcazione e ancora meno magari con il con il radar proprio un'imbarcazione piccola trova un grosso ausilio di sicurezza mandando a montare un AIS ok e ancora Denis ci chiede ha sentito ho sentito che anche le barche da di porto possono comprare un AIS di tipo A molto più potente sì non ci sono delle limitazioni per esempio un'imbarcazione da di porto può anche montare un VHF in classe A anziché in classe D in effetti non ha un gran senso tutto sommato gli apparati in classe A oltre a avere una potenza più elevata perché non è che poi sia elevatissima hanno dei dati maggiori che riescono a trasmettere la destinazione di tante altre informazioni di navigazione ma soprattutto la loro trasmissione nel tempo la sequenza di trasmissione è molto molto vicina ciò nonostante l'AIS trasmette con una frequenza di aggiornamento delle informazioni che è sempre proporzionale a quella che è la velocità e chiaramente un AIS in classe A ha delle prestazioni che sono superiori direi che tutto sommato per una imbarcazione da di porto nulla vieta che uno lo vada a montare ma non al di là di quelli che sono i costi non si trova un enorme beneficio ma forse qui converrebbe precisare quindi abbiamo detto un AIS di tipo A un AIS di tipo B esattamente la differenza sta che nel mercantile i pescheri ci sono obbligati ad avere un AIS di tipo A che come detto trasmette con un po' più di potenza e con una frequenza di aggiornamento dei dati molto più rapida che non quella degli AIS in classe B che sono quelli che normalmente troviamo sulle barche da di porto esatto poi ci ricordano ovviamente che AIS e radar sono strumenti complementari tra di loro importanti non sono sostitutivi uno dell'altro sono strumenti che sono complementari esatto e poi ci chiede un altro ascoltatore se cambio barca riesco a migrare l'AIS sì sì sicuramente si riesce devi ovviamente cambiare l'MSI per quanto riguarda cambio dell'MSI sui VHF a volte il costo è molto oneroso va fatto ovviamente dal distributore o dal centro di assistenza per quanto riguarda l'AIS invece dovrebbe essere molto molto più economico addirittura si fa con una procedura di cui ha possesso il distributore e magari fa pagare giusto qualche diretta per il cambio dell'MSI però se io lo micro da una barca all'altra devo cambiare l'MSI ecco adesso prima di mostrare le slide animate grande produzione di Giuseppe volevo dato tolgo questo volevo fare una domanda a chi ci segue e chi ci segue e chi ha un'imbarcazione e cercare di capire quale potrebbe essere il motivo per il quale proprietari di imbarcazione non lo hanno ancora installato cioè se potete scriverci nel commento o fare poi domande o approfondimenti precisioni motivazioni per le quali secondo voi non l'avete installato se non vi serve se non avete sentito parlare se costa troppo se è troppo complicato perché spesso vedo che si spendono tanti soldi nelle barche in accessori estetici o anche di comodità per carità però penso proprio perché mi è capitata l'occasione di capire l'importanza di questo di questo strumento che probabilmente su un'imbarcazione almeno su quelle immatricolate e soprattutto per chi va di notte penso che sia indispensabile già a 13 miglia di distanza il nostro ICE di bordo è in grado di allertarci qualora vi fosse rischio di collisione se ciascuno dei due mantenesse costante rotta e velocità in questa evenienza dobbiamo iniziare a monitorare l'evoluzione degli eventi in caso di rotta di collisione una nave mercantile che intenda manovrare per lasciare acqua alla barca a vela quando è arrivata ad una distanza di circa 4 miglia a costa di non più di 5 gradi questa minima variazione di rotta utilizzando una comune bussola da rinomento o da anche il radar è difficilmente apprezzabile nonostante la minima variazione di rotta la nave passerà a circa 600 metri dalla poppa della vela se invece la vela riducesse la propria velocità o accostasse a sinistra renderebbe inefficace la manovra della nave mettendosi in pericolo ovviamente la vela potrà decidere di manovrare per prima purché la sua manovra sia fatta con largo anticipo accostando in modo evidente almeno 30 gradi la nave viaggia a 20 nodi percorre 5 miglia in 15 minuti la vela a 6 nodi percorre 1,5 miglia in 15 minuti rilevata la nave a 4 miglia di distanza l'impatto avverrebbe dopo 5,5 miglia 4 miglia percorse dalla nave e 1,5 miglia percorse dalla vela quindi dopo circa 16 minuti se la nave accosta di 3 gradi a dritta passerà a 650 metri di distanza dalla vela altro post su facebook mi sono trovato circa a mezzanotte tra Capraia ed Elba corrotta a 15 gradi un puntino sull'ice corrispondente ad una nave passeggeri corrotta 205 gradi esattamente in prua sulla mia direttrice il problema grosso fu il fatto che piano piano all'avvicinarsi della nave tra le 20.000 luci che bardano questi mezzi non siamo riusciti a vedere né il rosso né il verde a 50 metri con panico a bordo senza sapere dove virare esattamente ovvinato deciso a sinistra passando a 50 metri dalla prua della nave avrei dovuto andare a destra ma è successa una cosa del genere ricostruiamo l'accaduto il diportista aveva un ice e quindi ha certamente rilevato la nave ad oltre 11 miglia di distanza se la nave viaggiava a 16 nodi e la vela a 6 nodi il rilevamento è avvenuto almeno 30 minuti prima in una situazione come questa di rotte opposte o quasi le norme per prevenire le collisioni in mare dispongono che ciascuna delle due unità accosti sulla propria dritta qualora la nave non avesse dato segni di spostarsi e non lo credo assolutamente e se giunti ad una distanza di 5,5 miglia la sola vela avesse accostato a dritta di 30 gradi le due unità sarebbero sfilate l'un l'altra ad una distanza di un miglio eccoci avevo qualche domanda da riproporre nel frattempo non c'è nessuna risposta sul fatto del perché non si monti un AIS i casi sono due o ce l'hanno tutti o non c'è una risposta al perché non lo monto abbiamo detto certamente qui c'è un'affermazione che ci dice che se non è obbligatorio per tutti e serve a poco occhi sempre aperti cioè occhi sempre aperti qua torniamo poi alla solita diaspora che noi lamentiamo che in Italia con una prograzia che c'è obbliga 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 sono tutte delle gambelle e poi dopo viene detto ma se non mi obbligano a farlo io non lo metto un attimo fare pace con noi stessi e trovare delle cose anche perché questa affermazione qua vuol dire non avere la domanda però in realtà lui non dice che non lo mette lui dice che non essendo obbligatorio ci sono altre persone magari non lui che magari non lo non lo montano oppure come già sappiamo può succedere qualche peschereccio anche magari per non far vedere dove pesca se lo spegne quindi occhi sempre aperti sempre certo e comunque perché come abbiamo detto prima non è che gli strumenti sicuramente però il fatto che noi si sia visibili per gli altri è una cosa molto molto importante e soprattutto per le navi grosse perché un conto è avere un incrocio con un barchino che può agevolmente all'ultimo momento svicolare e un conto invece avere un brutto incontro con una nave ecco Francesco Marin chiede una cosa interessante quindi è posso impostare un allarme a tot distanza certamente allora questo tot distanza siccome non è una cosa fisica ma è una cosa cinematica è quello che chiamiamo il CPA quindi l'elaborazione delle rispettive rotte coinciderà con una distanza di avvicinamento e noi possiamo impostare questa distanza impostare l'allarme per questa distanza da 150 piedi fino a 2 miglia 3 miglia quindi è assolutamente impostabile da noi stessi è possibile collegarlo al pilota automatico? no no abbiamo parlato che l'intervento dell'uomo è sempre fondamentale la guardia e avere uno strumento totalmente collegato a a un pilota automatico con l'uomo a bordo è assolutamente sconsigliabile poi si parla invece di quelle che sono le navi e drone le navi senza pilota che le stanno sperimentando le stanno anche mettendo in linea ma avere un ibrido tra la presenza dell'uomo a bordo è uno strumento che mi dice sono tranquillo perché tanto è collegato con il pilota automatico non solo sconsigliabile ma spero che sia anche in termini normativi assolutamente vietato Un'altra domanda è se nell'incertezza sul da farsi quando due imbarcazioni sono in rotta di collisione è ammessa la comunicazione via VHF Allora non è che è ammessa è obbligatoria questa domanda qua capisco da cosa scaduisce da qualcuno che è andato a interpretare più di sicuramente quello che viene indicato in alcuni libri in cui tra l'altro dicono che gli americani fortemente sostengono questo invece gli inglesi sconsigliano l'uso del VHF perché uno deve stare alle norme no assolutamente è uno strumento essenziale che mi dà tutte le possibilità di farlo è molto valido e va obbligatoriamente utilizzato il VHF quando siamo ai rischi di collisione certo non quando siamo sotto la brua adottose scansi no dobbiamo farlo ovviamente per tempo infatti assolutamente poi abbiamo un ascoltatore che ci scrive che lui ce l'ha io ce l'ho più lungo era probabilmente per dire non posso rispondere alla domanda perché non ce l'ho perché ce l'ho ecco questo è credo sia allora chiediamogli come si è trovato e quelli che sono i benefici lo sentiamo dalla viva voce di qualcuno che ce l'ha certo poi ancora Dennis ci dice che secondo lui ma è come spero anch'io e non capisco perché è stato come l'SL bag le auto sarebbe opportuno iniziare a montarlo obbligatoriamente sulle nuove barche e così tra vent'anni ci troveremo a percentuale molto molto alta non ho tanto carisma da poterlo obbligare e poi torno al discorso di prima noi ci lamentiamo sempre sugli obblighi mentre invece dovrebbe essere nostra coscienza dotarci di questo giustamente la domanda è perché gli altri non hanno coscienza cosa facciamo o lo rendiamo obbligatorio così togliamo il problema della coscienza era Maurizio probabilmente quello che aveva detto sempre più temuto il naviglio di Porto che quello mercantile sono perfettamente d'accordo vediamo qui finalmente dunque non l'ho preso in considerazione perché navigo in Grecia di giorno quindi capisco la sua attività e lo monterò ecco bene quindi spero proprio che questa intervista sia utile per aver conosciuto un pochettino meglio quello che è l'AIS e ripeto siccome i costi si stanno si sono già abbassati parecchio che si abbasseranno ancora di più è decisamente una decisione da valutare con attenzione sì dunque questa domanda dove mi arriva perché poi giro d'altra parte arriva una domanda aspetta che devo riuscire a vedere qui apparecchio interessante grazie per i chiarimenti senz'altro un prossimo acquisto Marco Randazzo se si acquista un AIS di sola ricezione occorre comunque associarlo a un MMSI no ovviamente no perché se è solo ricezione non trasmetti nulla quindi non c'è proprio la possibilità di metterci dentro l'MMSI solo in quegli attivi ok perfetto vediamo qua sto gironzolando tra i vari gruppi per vedere altre domande d'accordo bene se non ci sono altre domande direi che abbiamo spero cercato di raccontare perché montare un AIS attivo passivo sia la soluzione migliore per navigare un po' più sereni un po' più tranquilli certamente come abbiamo detto non si come nessuno strumento ci si basa solo sullo strumento elettronico ci si basa ovviamente sull'attenzione personale individuale ma avere strumenti di questo tipo pensiamo mi è capitato di notte e anche una volta con la nebbia devo dire che sono un ottimo strumento è un ottimo strumento per evitare cosa di conforto anche si di conforto proprio ti toglie un po' di ansia come tanti strumenti contribuiscono ognuno per un pochino a diminuire l'ansia che normalmente è aumentare la sicurezza però perché non è soltanto l'ansia che deve cambiare aumentano la sicurezza e quindi aumentandoti la sicurezza la sicurezza reale la percezione e la sicurezza ti diminuiscono un pochino anche l'ansia ok quindi la nostra conclusione di cui avevamo detto oggi Giuseppe sono dotate tutte le vostre imbarcazioni di un ice possibilmente attivo aiuterà a rendere le vostre e le navigazioni altrui più serene e sicure tutte le nostre esatto ma che le altre beh tutte le nostre dipende che barca abbiamo e non dovrete rischiare di rimpiaggere di non averlo fatto questo è proprio un monito che lo mettiamo che porta un po' sfortuna ma lo spariamo va bene ricordiamo che questo video dell'incontro lo possiamo ritrovare sul canale VIF di youtube tramite il link che trovate nei commenti se vi iscrivete al canale di VIF di youtube cosa buona e giusta riceverete l'invito per non perdervi la visione delle prossime dirette e quindi ringraziamo Giuseppe della sua disponibilità e competenza e lo salutiamo e avremo sicuramente una prossima occasione per risentirci ciao Gianni ciao a tutti grazie a tutti buona serata grazie a tutti